L'occavoca, marinaru, calucelo, luna e chiaro, l'occavoca, portelletto, e alla casa torna a fretto, pilo sonno chi calò, palaninna e palavò, pilo sonno chi calò, palaninna e palavò, e lasci tutti agnuniati, innaliniti, suangugiati, lasci tutti... Ereclea Minoa diventa il centro del Mediterraneo, musiche arabe, spagnole, greche, siciliane, anche napoletane, ballate da sei bravissime ballerine della compagnia Miula Sungani. Mediterraneo, uno spettacolo liberamente ispirato a fiabbe, leggende siciliane, ed anche a Cosima, il romanzo di Deleida, la scrittrice Sarda, appartenente alla corrente verista, inaugurata dal siciliano Giovanni Verga. Leggi e coreografie dello spettacolo sono di Miula Antonio Sungani. L'opera coreografica è un omaggio ai popoli, ai luoghi che si affacciano sul Mediterraneo, ed è caratterizzata da musiche tradizionali dell'area geografica. Il soggetto della nuova performance parla delle storie delle vicende di Maria e di alcune, come lei, clandestine o profughe, provenienti da diversi paesi che guardano sul Mediterraneo, emigrate dal loro paese per sfuggire alla guerra e dalla povertà, e sbarcate in Sicilia con le navi della speranza per cercare asilo. Per varie vicissitudini si ritrovano tutte nel medesimo luogo, nella fattispecie dell'Eclea Minoa, nello splendido teatro. Da lì la scoperta delle molteplici culture, dell'altro come è possibile, quanto mai ha auspicato arricchimento culturale nella strada per la crescita di un popolo. Secondo il regista e coreografo Sungani, la Sicilia è la terra in cui le diversità, viste le tante dominazioni vissute, hanno reso possibile l'integrazione e la contaminazione, creando unicità artistiche e culturali che hanno posizionato questa splendida terra al centro del Mediterraneo. Anche stavolta molto soddisfatto il pubblico di Ereclea Minoa.